Durante la campagna elettorale ha incontrato la gente nei paesi insieme ai componenti della sua lista. Agostino Di Giacomo, candidato alla presidenza della regione di Casa Pound, ha illustrato il programma. Sono il candidato più giovane in corsa per la regione molise e appunto il nostro programma rispecchia poi quelle che sono le criticità della nostra regione, ovvero il lavoro, soprattutto nelle fasce giovanili. Quindi abbiamo puntato molto sul lavoro e sulla possibilità di formare giovani per inserirli nel mondo del lavoro. Mondo del lavoro che non deve necessariamente essere quello dell'industria o dei servizi pubblici, ma anche il ritorno al settore agroalimentare, su cui noi abbiamo puntato molto e pensiamo che possa essere un nuovo fattore trainante per l'economia molisana. Però abbiamo trattato anche di altri temi, soprattutto sociali, perché l'inclinazione di Casa Pound è proprio quella a trattare di temi sociali, quindi la famiglia, la casa, tutti i temi che riguardano i molisani e gli italiani, perché oggi purtroppo la crisi stringente ha messo sempre più persone in difficoltà e nella possibilità di non avere una casa e la prospettiva di fare una famiglia. Noi vogliamo invertire questa tendenza e la vogliamo fare tramite delle nostre proposte che sono sicuramente di facile attuazione. Ci sono poi le infrastrutture. Sì, le infrastrutture. Noi abbiamo pensato soprattutto a quelle viarie, quindi parlando di una superstrada a quattro corsie che possa collegare la nostra regione con le altre regioni limitrofe, ma anche settori interni della nostra regione che attualmente sono di difficile collegamento, quindi penso magari al collegamento tra le grandi città, ma anche quello con i borghi. E poi abbiamo parlato anche di ferrovie. Noi vogliamo l'elettrificazione completa della tratta ferroviaria molisana, perché è impensabile che Termoli sia raggiungibile al resto d'Italia, ma da Termoli non si possa arrivare a un altro capo della regione che può essere Venafro. Quindi le infrastrutture sono un tema fondamentale nel nostro programma elettorale. Così come la sanità? Così come la sanità, sanità pubblica. Noi abbiamo fortemente un accento e un'impronta sociale, quindi crediamo che la sanità debba essere pubblica e l'ente regione debba finanziarla. Le strutture private presenti sul nostro territorio sono delle eccellenze e come tale vanno preservate, ma non possiamo pensare che vengano finanziate dal contribuente omodisano, dovranno imparare a camminare con le proprie gambe.